Bella parte Ottimo Passaggio fantastico Passaggio 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Splendida palli. Ottimo. Grazie a tutti. Amico, i fratelli Williams. Sì? Che è successo? Cosa? Non lo sai. Loro sono quasi venuti alle mani durante la semifinale. Sul sede? Io li ho dovuti separare. Beh, era la semifinale di Champions League. L'atmosfera si scalda. Giusto. Giusto. Ma, Alex, loro chi sono? Chi? Quelle persone in casa tua? Quello è l'entourage, amico. Ok, ma che cosa stanno facendo ora? Intendo, in questo preciso momento. Fanno roba per il marchio. Amministrazione. Si occupano... Non lo so di qualcosa, ne sono certo. Beh, assa come funziona. Voglio dire, con me... Io ho soltanto mio padre e... Beh, un paio di persone importanti, ma... Nessun altro. Nessun altro? No. Questa... Questa vita non mi lascia molto tempo libero. È quello che ho. Voglio passarlo con le persone... A cui tengo veramente. Non ci avevo mai pensato. Beh, questa è solo la mia opinione. La mia macchina è arrivata. Vorrei potermi fermare ancora, ma... Grazie mille per avermi invitato. Figurati. Ci vediamo, amico. Fai buon viaggio. Grazie mille per avermi invitato.